ciao a tutti allora ecco qui un altro classe d appena riparato nel nostro laboratorio di iso tech eccolo qui che sta suonando in questo momento suona perfettamente led verde entrato in protezione c'era un problema sull'alimentazione ma soprattutto nello stadio di amplificazione questo qua lo stadio audio anche perché è stato ultramanomesso come potete vedere ci sono piste saltate che poi sono state anche ricostruite e soprattutto il problema principale era su questo schieno qui che lo schienino tvm la cosa che abbiamo notato ora soltanto dopo la riparazione è che la ventola era anche posizionata al contrario quindi in realtà non raffreddava assolutamente lo schienino tvm e quindi ovviamente si è si è praticamente bruciato a causa anche della temperatura ora sta funzionando perfettamente e può essere riconsegnato al nostro cliente eccolo qua ciao a tutti e grazie alla prossima ciao a tutti